buonasera a tutti da questa sera cominciamo ad elencare a descrivere delle piante che sono ricche di principi attivi che sono efficaci sia sulla digestione che come depurativi a livello del fegato iniziamo a parlare dell'erba più facile più conosciuta che è cinara scolimus volgarmente conosciuta come carciofo il carciofo fa dei buonissimi frutti che arricchiscono la nostra tavola è un'erba perenne che è della famiglia delle composite porta due tipi di foglie quelle più lunghe laterali e quelle caudinali e sono proprio quelle caudinali che sono raccolte per estrarre poi la tintura madre da macerazione alcolica e l'estratto secco il carciofo è molto ricco di principi attivi tra i quali il più importante da ricordare è la cinarina la cinarina è un buon coleretico significa che va a stimolare la secrezione della nostra bile inoltre un buon colagogo quindi significa che va ad attivare la funzionalità della cellula epatica inoltre funziona anche come diuretico infatti all'inizio si ha una diciamo eliminazione semplicemente di acqua ma dopo circa un'ora dalla somministrazione di cinarina abbiamo anche l'eliminazione a livello renale di sostanze azotate tipo l'urea quindi possiamo dire che la cinarina è un principio attivo molto versatile e per cui possiamo utilizzarlo in tutte quelle situazioni per abbassare il colesterolo tenere sotto controllo i nostri trigliceridi nello stesso tempo riattivare la digestione attraverso i succhi biliari e poi come diuretico visto che fa da pulizia di acidi urici anche a livello renale il carciofo non è tossico e si può utilizzare nella somministrazione di 20 30 gocce di tintura madre durante la giornata il carciofo è una pianta come abbiamo detto legata al fegato colgo quindi l'occasione visto che domani è la festa del papà di ricordare a tutte le mamme ai bambini di non far rodere il fegato ai vostri papà e auguriamo buona festa a tutti